Presentazione di 5 giocatori nell'ultimo giorno di calciomercato. Pietro Lomonaco fa il punto sulla situazione per un mercato che ha visto 11 entrate e anche diverse uscite. Sul giornale d'azione che troverete in edicola a partire da questo venerdì 2 febbraio troverete ulteriori informazioni. Potete seguirci anche su www.sdnews.it Ultima giornata di calciomercato, un calciomercato lungo con tanti innesti e tante uscite. Sì, era inevitabile perché come ho detto quando siamo arrivati eravamo ultimi in classifica e un motivo ci sarà perché sei ultimo in classifica. Evidentemente c'era la necessità di intervenire sull'organico e l'abbiamo fatto. Direi anche in maniera massiccia, anche se odio operare massicciamente a gennaio, non è mai semplice perché hai poco tempo a disposizione per amalgamare praticamente una nuova squadra. Quindi diventa problematico e con un grande punto interrogativo. Però abbiamo preso tutti i ragazzi validi, ragazzi di buona prospettiva, ragazzi che si sono a parte Caringham del Como che è in prestito. Il resto hanno sottoscritto un contratto nel tempo a Novara, quindi vuol dire che si può fare un certo tipo di lavoro. La speranza chiaramente di portare in porto quello che è l'obiettivo finale, che è quello della salvezza. I ragazzi si stanno inserendo un poco alla volta e ripeto, l'unico ostacolo è il tempo esiguo che hai a disposizione, perché mancano tre mesi e mezzo alla fine del campionato, quindi non è semplicissimo, però noi abbiamo il dovere di provarci.